cocco bello un saluto alla mia amica paola di milano e un saluto alla mia amica paola di roma ma che sta a firenze vi saluto tutte e due paoline che mi state ascoltando grazie mille andiamo avanti con la programmazione di cocco bello grandissimo questo disco non si può dire altro proseguiamo pure house su cocco bello per tutti gli ascoltatori un saluto un altro ennesimo saluto va al mio carissimo amico nonché direttore artistico della radio mauriziano carranante che in questo periodo è impegnatissimo e sta facendo delle cose veramente importanti per se stesso ma anche per tutta la radio perciò in bocca al lupo e grande mauriziano avanti così andiamo avanti con cocco bello solo musica house iscriviti al canale 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 Grazie a tutti. 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 Un bacio e a tutti. Grazie 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 a tutti. Be a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.